Pistoia, la città dello scultore Marino Marini, della Fregio Robbiano, che sovrasta il porticato dell'antico ospedale del Ceppo, del gotico Battistero di San Giovanni, della Festival Blues, che la scorsa estate ha richiamato 45.000 persone, e di quello di Antropologia Dialoghi Sul Uomo, sarà la capitale italiana della cultura per il 2017, a designarla alla commissione presieduta da Marco Cammelli. Pistoia ha battuto così un'altra città toscana, Pisa e poi Aquileia, Como, Ercolano, Parma, Spoleto, Taranto e Terni, non senza sorpresa dello stesso assessore alla cultura della comune pistoiese, Elena Becheri, a Roma in sostituzione del sindaco Samuele Bertinelli. No, non ci aspettavamo questa vittoria, penso si sia visto dalla mia faccia al momento della proclamazione, ha detto emozionata. Soddisfatto il sindaco della città, Samuele Bertinelli. Credo sia stato premiato un impianto solido, una proposta non fatta per la gloria di un giorno, e soprattutto l'idea che la cultura, il sapere, siano il primo dei diritti di cittadinanza. Pistoia è una città che investe più del doppio della media nazionale in cultura, ed ha ogni giorno, in quantità e qualità, un complesso di istituzioni culturali, da quelle del sistema museale, archivistico, bibliotecario, stabilmente presenti nella città, di straordinario valore. Cosa è che, secondo lei, ha influito in questa vittoria? Nel dossier, che cosa c'era? Il centro storico, i festival? Ma credo che abbia influito molto questo carattere di sistema delle politiche pubbliche che proponiamo. Politiche non esibite, non organizzate per singoli appuntamenti, ma dentro un'ispirazione unitaria. Concepite le politiche culturali come il lievito di tutte le altre politiche pubbliche, a partire da quelle della trasformazione urbana della città. Penso in particolare all'area del Cepo, che avrà alcuni capisaldi della sua trasformazione nell'ampliamento e nella qualificazione dell'offerta museale cittadina.